È iniziata da Pavia Est la sostituzione delle lampade pubblici con nuove lampade a LED. Sì, abbiamo messo in campo una progettazione che ha coinvolto in questo momento Pavia Est e Pavia Nord Est, quindi Vallone, che sarà la prossima tappa, e proprio in questi giorni è cominciata la vera e propria sostituzione di tutti i corpi illuminanti, quindi proprio delle lampade, che saranno tutte sostituite con tecnologia LED. Noi cercheremo di aggiornare praticamente in tempo reale tutti i cittadini tramite il sito del Comune su quali sono le vie su cui stiamo intervenendo, in modo tale che sappiano cosa sta succedendo, ma soprattutto ci segnalino se ci sono dei disservizi, cioè se le lampade hanno magari dei cali di potenza dopo che sono state accese, proprio perché l'installazione delle lampade è anche un modo per andare a verificare lo stato di vetustà delle linee elettriche, che in alcuni casi appunto non sono nuovissime. Quindi in questo senso chiediamo anche la collaborazione di tutti per rendere tutto il processo più spedito e più efficiente. Dopo questa prima fase di cambio di tutti i corpi illuminanti interveremo anche sul decoro, quindi andando a sostituire alcuni sbracci, alcuni pali e soprattutto andando a riverniciare i pali su tutta la città.